Il lungomare pesarese si prepara a cambiare volto in maniera definitiva. Dopo vari interventi avvenuti nel corso degli anni che hanno riguardato in particolar modo il tratto di Viale Trieste, l'amministrazione comunale ha annunciato che si prepara ad avviare una raccolta di idee e progetti per cambiare in maniera strutturale e definitiva l'area interessata, affinché divenga sempre più accessibile, vivace e moderna. Da qualche anno abbiamo iniziato a ripensare il modello del lungomare di Pesaro cercando di sfruttare la sua pedonalità, in particolare nei mesi estivi, individuando degli allestimenti temporanei da giugno fino a settembre o fino alla fine di agosto, fino alla fiera di San Nicola, puntando sulla pedonalizzazione e sulla vivacizzazione di quella parte del Viale. Oggi siamo arrivati al punto di pensare in modo strutturale a tutto il waterfront e l'idea è quella di lanciare nel periodo di autunno un concorso di idee, un concorso di idee rivolto a giovani professionisti, anche a meno giovani, agli studi di architettura, di ingegneria di Pesaro, della provincia, della regione, ma anche aperto al resto d'Italia, per ripensare il waterfront, tutto il lungomare di Pesaro, dalla palla, anzi da piazza d'annunzio fino al Moloco, ripensarlo, cercando di trovare un punto di incontro anche tra interessi contrapposti, quelli che possono essere dei titolari degli stabilimenti balneari, piuttosto che degli alberghi, dei residenti, delle tante attività. Io penso che sia giusto continuare a puntare su una pedonalità di quel tratto di male, pensando sempre più verde, sempre più vivo, così come gli investimenti realizzati in questi anni hanno dimostrato di andare nella giusta direzione. Ripensarla in maniera definitiva, quindi iniziando poi per stralci a individuare anche le risorse per riuscire a realizzare una riqualificazione, una rigenerazione verde con un arredo urbano diverso, un intervento di rigenerazione di tutto il lungomare per recuperarlo, per renderlo più fruibile, più accessibile e più moderno.